Due sole persone addette all'esame dei tamponi in provincia di Agrigento. Ecco la spiegazione perché i risultati arrivano in netto ritardo. All'inizio le persone addette erano tre, una però è risultata positiva, ma non è stata mai sostituita. Questo sarebbe anche alla base dei focolai che sono scoppiati nei giorni scorsi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Emblematico quello che è successo nel reparto di lungodegenza. Difficile capire se il virus nel reparto è stato portato da un patente oppure da un operatore. Fatto sta che il tutto è cominciato dal momento che un'anziana è arrivata dall'ortopedia, altro reparto dove si sono registrati alcuni casi di Covid-19. La donna è stata sottoposta al tampone rapido che ha dato esito negativo. Dopo un paio di giorni però il personale medico ha constatato che la signora aveva una tosse secca persistente, senza tuttavia febbre. A quel punto è stata sottoposta al tampone classico che ha dato esito positivo. Da quel momento sono risultati quattro pazienti positivi così come due infermieri, tutti asintomatici. Nel frattempo è stato costituito un consiglio dell'ordine dei medici, dove ne fanno parte anche i farmacisti e gli infermieri che verranno coordinati dal medico Piero Luparello. La prima battaglia che si sta portando avanti è quella che vede al momento esclusa Agrigento dalla raccolta del plasma. E intanto il sindaco Franco Micichè è subito informato, ha voluto avere rassicurazione dai vertici dell'ASPE e dall'ospedale circa la sicurezza del nosocomio di contrada consolida e dei percorsi Covid-19. Insieme al commissario dell'ASPE 1 Mario Zappi, al direttore sanitario Gatano Mancuso e al direttore dell'ospedale Antonello Seminerio e accompagnato dall'assessore comunale alla sanità Giovanni Vaccaro, ha voluto verificare se ci sono punti d'incontro fra le parti, accertando personalmente che le due situazioni sono tenute perfettamente distanti e senza nessuna possibilità di contagio. A questo punto si è discusso di presidi di PA insufficenti e il sindaco si è offerto di farli ritirare direttamente da persone di sua fiducia a Palermo. Si è parlato anche della velocità con la quale vengono resi noti i risultati dei tamponi, soprattutto per le persone ricoverate, problema sollevato proprio dall'assessore Vaccaro. Il commissario Zappi ha rassicurato che farà in modo che i risultati verranno comunicati entro poche ore, al massimo l'indomani mattina, e ha dato disposizione di riorganizzare il reparto che si occupa di fare tamponi e rendere noti i risultati. E stamani decine e decine di persone si sono presentati all'esterno del nosocomio agrigentino per effettuare il tampone. Proteste anche perché gli orari, concordati per essere sottoposti al test, non sono stati rispettati. Da quanto aspetta? Una mezz'oretta. Dico, lei è preoccupato? Lei è preoccupato con i tempi che ci sono, speriamo che si risolve qualcosa. Mi hanno detto alle 10.20, sono venuto alle 10, sono ancora qui. Buongiorno, non attendete da tanto tempo? Da due ore all'incirca. Si sono messe adesso a fare i tamponi, essendo che erano all'entrata della porta dell'ospedale, ora si sono trasferiti qui sotto. E quindi aspettiamo. È dalle 9.30 che è qua? Sì. Quindi già quasi due ore? Sì, è giusto, alle 11.00. Ma l'avevano detto di attendere così tanto? Alle 8.30, no, mi hanno detto alle 9.30, anzi mi hanno detto che doveva andare là sopra e mi hanno rimandato qua. Poi è venuta l'ambulanza e noi siamo qua in attesa. Lei è preoccupato? No. Signora, lei da quanto tempo è qua? Dalle 9.30. Ma l'avevano detto di venire a questo ora? Alle 10.00, perché siccome veniamo di fuori, anticipiamo. E comunque gli tocca sul senso aspettare? Qua siamo. È sbagliato sto discorso, un anziano qua messo da due ore. Ora glielo chiedono e mi dicono no, e chiamano a chi non c'è, è normale, io non lo so. Grazie. Grazie. Grazie.